ciao ciao a tutti bentrovati sul mio canale feri asmr e grazie per aver scelto questo video rilassante per chi non mi conoscesse io sono federica e quello che state per guardare sarà un video test di questo nuovo setting binaurale con ben due microfoni root quindi si tratterà di un video in cui potrete ascoltare la mia voce sussurrata con effetto appunto binaurale cioè da orecchio a orecchio ti consiglio perciò come al solito ti consiglio di indossare le cuffie oppure gli auricolari per questo setting devo fare assolutamente dei ringraziamenti innanzitutto tani che ha acquistato i due microfoni root questo lo avete già visto questo è nuovo e li ha scelti direttamente dalla mia lista amazon che potrete trovare come al solito qui sotto nell'info box se avete voglia di fare un regalo al canale e aiutarmi a implementare e migliorare l'attrezzatura oppure se semplicemente avete voglia di vedere un oggetto un trigger in particolare in questo canale in uno dei miei prossimi video date un'occhiata all'info qui sotto per le aste ringrazio poi gianluca e scosso e per lo sfondo lì dietro scosso che già da un po' di tempo me l'ho regalato sempre scegliendolo dalla lista amazon mentre questa luce violacea che potrete notare è opera del regalo di piero grazie 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 infinitamente a tutti voi ho un ultimo ringraziamento e saluto da fare ed è ad alex perché durante il video che sta per iniziare oltre ad ascoltare il suono della mia voce che spero sia molto rilassante per tutti voi vi farò ascoltare quello di un oggetto che a me piace e rilassa moltissimo di che cosa si tratta andiamo a scoprire insieme mettiti comodo o comoda e iniziamo eccoci dunque naturalmente aspetto un sacco di feedback qui giù nei commenti quindi fatemi sapere se il suono è credevole e se avete dei consigli per migliorarlo ancora con questo setting ma a me già così sembra davvero spaziale è molto molto pulito e soprattutto immersivo dunque l'oggetto che ho scelto oggi per accompagnare i miei sussurri è questo piccolo insieme di bastoncini di legno grazie infinite alex per avermi rivelati dalla lista in realtà quando li ho scelti avevo la sensazione che il loro diametro fosse maggiore ma devo dire che anche così fanno veramente un bel suono molto piacevole spero sia piacevole e delicato anche per voi ne ho veramente tanti 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 e sto pensando a che genere di video portarli prossimamente con loro se avete delle idee e dei suggerimenti scriveteli qui sotto oppure contattatemi su Instagram per questo video chiacchieriggio dove la voce e soprattutto la protagonista vorrei raccontarvi come sto trascorrendo queste ultime giornate post quarantena dove in realtà la quarantena non è ancora del tutto finita ma si è un po' più liberi quanto meno di passeggiare al parco fare un po' di attività motorie che mi è mancato davvero tanto 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 negli ultimi quasi due mesi devo dire che mi sono mossa davvero troppo poco non so voi avevo anche iniziato a fare un po' di attività fisica in casa ma a un certo punto le mie giornate sono state inaspettatamente così tanto occupate da farmi perdere la concezione del tempo e non sono più riuscita a dedicare uno spazio agli esercizi anche perché chi mi conosce da un po' questo lo sa io non sono proprio una persona sportiva anzi ho qualche problemino di salute e non posso dedicarmi troppo al movimento ma un po' va bene anzi condurre una vita troppo sedentaria nel mio caso peggiora le cose comunque in questi giorni c'è stato anche il mio compleanno e è stato un compleanno molto strano perché solitamente io trascorro quella giornata in compagnia dei miei amici è praticamente l'unica giornata dell'anno in cui riesco a riunirne il più possibile che magari gli amici che non vedo troppo spesso perché abitano molto distanti nella giornata del mio compleanno vengono a trovarmi e per me è molto importante quindi non avendo potuto incontrarli è stato un po' strano e anche forse un po' malinconico il mio stato d'animo ma comunque sono contenta di averlo trascorso in maniera in ogni caso piacevole e tranquilla abbastanza serena come spero che possiate sentirvi voi in questo momento sereni spero che giorno dopo giorno siate sempre più tranquilli e in equilibrio con i vostri pensieri e con le vostre emozioni soprattutto io vi auguro sempre 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 pensieri felici ora che ci penso questi bastoncini di legno che adoro sfregare tra loro mi ricordano un po' le bacchette cinesi che poi non so se siano davvero nate in Cina qualcuno di voi lo sa forse si usano in maniera più diffusa comunque in Asia e a proposito dell'Asia ho finalmente assaggiato di nuovo il sushi proprio durante la serata del mio compleanno mi era mancato particolarmente questo cibo e devo dire che negli ultimi due mesi durante la quarantena ho condotto uno stile alimentare e una dieta per lo più vegetariana io già non mangiavo la carne ma durante la quarantena mi è capitato pochissime volte di mangiare anche il pesce quindi non lo so non sono sicura però di volerlo completamente eliminare dalla mia alimentazione e il sushi in ogni caso mi mancava quindi me lo sono diciamo concessa nel giorno del mio compleanno per il resto tutti i regali che ho ricevuto sono stati praticamente i vostri e sono molto contenta di questo ma soprattutto sono tanto contenta dei vostri aguri so che sono stati sinceri e spero con tutto il cuore che questo nuovo anno questo nuovo mio anno quindi è un auto augurio proceda all'insegna dell'autoscolto spero non vi sembri troppo selfish come si dice questo questa mia affermazione ma ho davvero bisogno di recuperare il contatto con la mia emotività e ascoltare quello che sento per poter scegliere di conseguenza talvolta talvolta le scelte non sono affatto semplici tuttavia è necessario è riprendere il contatto con ciò che si vuole davvero e poi partendo da questo penso che la strada da percorrere si faccia via via sempre più chiaro a voi è mai capitato di non ascoltarvi e se si come siete riusciti a farlo di nuovo magari vi ha aiutato un percorso psicologico oppure qualche amico qualche video motivazionale o avete trovato la forza semplicemente in voi stessi fatemelo sapere mi interessa moltissimo voglio farvi ascoltare per qualche secondo i suoni dei legnetti e ditemi se non provate qualche presidio che e che di spero che non vi sentiate mai sbagliati per le emozioni che provate e spero che non permettiate a nessuno di metterle da parte e di farvi sentire inopportuni tra qualche emozione che state vivendo le emozioni non tanto giudicate, non sono mai sbagliate ma è vero che possiamo scegliere cosa fare con le emozioni che non ci fanno stare bene e io consiglio sempre per quello che ho imparato innanzitutto di accoglierle e di conoscerle e poi di superarle di superarle rendendoci conto che non sono più necessarie e che vogliamo fortemente stare bene è un percorso che dobbiamo fare da soli se qualcuno vi fa sentire giudicati o inopportuni ma forse è il caso di ricordarvi quanto sia importante tutto quello che provate quanto fondamentalmente faccia parte di un percorso che è individuale e può avere dei tempi variabili per giungere a maturazione proprio come i pensieri quelli che certe volte sembrano non avere una forma ma piano piano si chiarificano e una forma la prendono bene per oggi è tutto per questo video test dei due nuovi microfoni Rode per l'effetto binaurale mi raccomando aspetto di leggere nei commenti le vostre impressioni sul suono che ne è venuto fuori se siete arrivati fino a qui fatemelo sapere nei commenti aggiungendo la parolina magica che questa volta è nuvoletta e io vi lascio tanti pensieri felici e vi mando un parattolo grosso 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 di bacini fadosi e ci vediamo come al solito se vi va nel prossimo video ciao 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 ciao